Buongiorno a tutti, qui a Liberty City c'è il caos. Oh scusate non mi sono presentato, il mio nome è Nico Bellic e come professione faccio il poliziotto. Il mio compito è sconfiggere questi criminali che invadono la città e che fanno guai di tutti i tipi. Ok, nel frattempo metterò una nuova canzoncina della super velocità, poi commentate e ditemi se la riconoscete. Va bene? Ok, iniziamo la sigla. Aspettate un attimo eh. Ecco, via! Aspettate un attimo eh. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. E' stata divertente? Eh si anche per me Ok ma dove sono sti ricercati? Ditemi che stanno su No Va bene Non saranno mica quelli? No Ok 1 2 3 Un passo falso e finisco Per un pello ragazzi Ecco gli altri E altri ancora Mi sembra Call of Duty sto gioco E che cavolo Devo riuscire ad annientarli Chi è il prossimo? Oh devo andare devo andare Oh state calmi che vi aiuto io No Che è sto? Dove? Andate qui Bene ragazzi Siamo riusciti ad annientarli Oh E sta buono Ma che oh Bene Come stavo dicendo Siamo riusciti ad annientarli Il prossimo video sarà Un Più divertente Ciao a tutti Vediamo se va bene Ciao a tutti